La 16, ho fatto questo accordo con il direttore, con Taibi, mi ha dato una grande mano, un amico che non è stato direttamente il mio procuratore, però mi ha dato una grande mano, Manu non ti può, che è un amico che ho conosciuto in questi anni di Modena e lo voglio ringraziare, devo ringraziare Franco Jacopino, la società, insomma tutti quelli che fanno parte della società, insieme a Prandini, Russo e chiunque, perché hanno fatto sì che potessi rimanere a Modena, io ho fatto solo un gesto normale, mi era stato chiesto come sapete tutti di spalmare il contratto e credo che ci abbiamo messo veramente 5 minuti a trovarlo, non voglio parlare più del passato, insomma credo che ormai si sia capito il problema qual era, quindi vado avanti per la mia strada, cercherò sempre di dare una mano ai miei compagni, al mister, al gruppo, credo di non aver mai rotto le scatole a nessuno, adesso è sempre stato positivo, dico sempre al direttore finché non salto un allenamento penso di essere comunque importante e questo è quello che devo dire, ecco io sono molto contento, sono contento di rimanere qua, di vestire ancora la maglia del Modena, spero per sempre, però intanto guardiamo questi due anni qua, pensiamo a finire bene questa stagione che è cominciata nel migliore dei modi, credo che abbiamo fatto più punti di tutti però nel giro di ritorno, quindi non da quando è iniziato, però non è finita, se lo sappiamo, se lo siamo detti, quindi adesso guardiamo solo al campo e andiamo avanti.